Ciao, oggi realizziamo un collo, sempre con la nostra The Express, quindi lavorando sempre in circolare, ancora una volta, un collo da donna con un bellissimo filato che è il Polar Eyelash, è un 100% poliamide ed è un filato pelosino che è veramente molto morbido e soffice. Io lo consiglio anche a chi solitamente non può utilizzare questi filati perché magari ha una pelle molto sensibile e pizzicano. Questo andrebbe bene persino per un bambino, ovviamente non lo utilizzate per i bambini molto piccoli perché avendo la peluria può finire in bocca e quindi è sconsigliato per questo, però per un adulto che ha la pelle molto sensibile con questo filato non ha alcun problema perché è veramente soffice e anzi è piacevolissimo al tatto. Iniziamo subito col progetto. Non vedete la macchina dall'alto perché comunque mi veniva un po' difficile posizionare il treppiedi come la volta scorsa, però se volete vedere il video dove vi parlo un po' di più della macchina e vi faccio vedere come montare le maglie, per quello vi lascio la scheda informativa qui in alto. Cliccate lì e vedete come si montano le maglie per lavorare in circolare. Per chi avesse già visto quel video invece, oggi vado direttamente a presentarvi il progetto. Allora, è un collo semplicissimo, dobbiamo semplicemente come la volta scorsa lasciare la codina all'interno e montare le maglie. Partiamo sempre dal primo ago nero e montiamo le maglie, sempre uno sì e uno no, facendo prendere un ago sì e un ago no il filato. Attenzione che tutti gli aghi prendano il filo e lo portino giù. Ecco, arrivati al primo ago nero nuovamente, mettiamo il filato nel nostro scomparco e chiudiamo il blocca filo. Azzeriamo al solito il contagiri e cominciamo a lavorare, magari nei primi giri andando più lentamente perché dobbiamo essere certe che il filato venga bloccato, preso da ogni ago. Non facciamo altro che girare questa manopola al solito. Perfetto, ho semplicemente girato la manopola e quindi lavorato 68 giri. Adesso intanto vi dico subito che ho utilizzato un solo gomitolo, quindi 50 grammi di filato per un collo ed è veramente velocissimo da fare. Se non avete la D-Express ma vi piace il progetto, potete benissimo prendere dei ferri circolari numero 5 mm e lavorare in tondo per 68 giri o più, dipende da quanto lo volete alto e quanto lo volete grande. Allora, a questo punto dobbiamo chiudere il lavoro. Quindi lasciamo un pezzo di coda lunga, di codina lunga del lavoro e andiamo a raccogliere le maglie. Sempre come vi ho fatto vedere nel video precedente, quello del cappello, infiliamo la codina nell'ago da lana. Togliamo il filo dal bloccafilo e cominciamo a girare a vuoto la nostra manopola lentamente. Quando gli aghi vanno giù e vediamo che tra i due dentini abbiamo la solina, la raccogliamo. Questa volta non dobbiamo stringere perché non dobbiamo chiudere come abbiamo fatto col cappello ma dobbiamo lasciare che le maglie entrino nella codina ma non stringere, ecco, dobbiamo lasciare il filo morbido all'interno delle maglie perché il lavoro non tiri, ecco. Proseguiamo così per tutte e 46 le nostre maglie. Bene, una volta tolto il lavoro dalla nostra macchina, come dicevo prima, e raccolte tutte le maglie, non dobbiamo stringere questa codina perché a noi non serve un cappello, cioè si chiuderebbe, si stringerebbe qui. Siccome dobbiamo fare un collo lasciamo questa codina molto morbida, anzi tiriamo un po' così che si distribuisca in maniera morbida all'interno del lavoro. Nel punto dove abbiamo raccolto l'ultima maglia andiamo a chiudere internamente con un nodino e nascondiamo un po' il filo all'interno. Solitamente il dritto del lavoro, quando noi andiamo a realizzare ad esempio un cappello con un qualsiasi filato semplice e rasato, dovrebbe essere questo dove si presenta la maglia rasata. Ma in questo caso, e nel caso di tutti i filati pellicciosi, pelosi, il lavoro rende meglio, il filato rende il suo massimo nella parte, diciamo, che normalmente sarebbe il rovescio del lavoro, perché potete vedere che escono tutti i peletti e viene veramente un lavoro molto carino. Mentre l'interno si presenta come una maglia rasata. Eccola qui. Ciò non toglie che comunque potete utilizzare il collo in entrambe le versioni. Anche perché adesso, nascondendo il filo, vista la particolarità di questo filato, non si vedrà comunque il filo nascosto all'interno. Come si vedrebbe con un filo semplicissimo, ritorto. Ecco, nascondiamo un po' la codina all'interno del lavoro con l'ago da lana e poi andiamo a tagliare il nostro filo in eccesso. Bene, nascoste le codine, il nostro collo è pronto. È veramente molto, molto morbido. È da provare per capire la morbidezza di questo filato. Come vi dicevo, lo potete utilizzare da entrambe le parti. Ovviamente a me piace di più l'effetto pelliccia all'interno, ma anche a contatto con la pelle è molto piacevole. Quindi potete utilizzarlo anche dalla parte, diciamo, della maglia rasata. Questo tutorial è brevissimo, è molto semplice, però è il filato che, essendo di grande effetto, rende anche un progetto così semplice, molto particolare e carino anche da regalare. Sempre con la D-Express ho intenzione di realizzarci un maglioncino o un vestitino, vedremo, per le mie bimbe. Quindi, volendo, questa è stata una prova per vedere di come rende il filato e ovviamente, vedendo che veniva così bello, pian piano è venuta questa idea di farci intanto un collo, anche perché con soli 50 grammi abbiamo ottenuto il nostro collo molto morbido e caldo. Detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito questo breve video, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo tutorial.